Un successo oltre ogni aspettativa, per questo il Museo del Louvre ha deciso per gli ultimi giorni dell'esposizione dedicata a Leonardo di aprire i battenti anche la notte, oltre ai normali orari di visita. La mostra, dedicata al genio italiano, ha come era prevedibile, grazie anche a una sede ridomata come il Museo Principe della Ville Lumière, attirato migliaia di visitatori. Abbiamo capito dall'inizio che questa mostra sarebbe stata un successo, dice il direttore del museo, ecco perché è stata aperta per quattro mesi, una cosa inusuale. Abbiamo quindi deciso di aprire anche sabato e domenica sera, ma abbiamo voluto dare un'opportunità a chi non era riuscito a prenotare un biglietto per venire a godere di questi capolavori. Leonardo è da sempre presente al Louvre, grazie a quello che è forse considerato il dipinto più famoso al mondo, la Gioconda, ma una retrospettiva di questa importanza non era mai stata realizzata. Felicissimi i ritardatari. È stato grazie a questi orari che siamo riusciti a venire, altrimenti non ce l'avremmo mai fatta, è un'ottima cosa. All'uscita della mostra, articolata in sezioni, ombra, luce, rilievo, libertà, scienza e vita, la Gioconda è ancora nella sala detta degli stati, ad attendere i visitatori.